Se non c'è però qualcuno che ti supporta e che crede in quello che fai, non c'è una carriera, non c'è niente, c'è solo tu e la tua musica. Quindi io cerco sempre di coinvolgere i miei fan e farli sentire parte di qualcosa, che secondo me è la cosa importante che deve fare la musica.